Allora, amici del tubo, avete sentito la polemica su quel post scritto da quella ragazza? Io ho postato tutto il suo post, l'ho caricato sul canale perché ovviamente si è scatenata l'ira funesta di fronte a questo post perché ovviamente è molto politicamente scorretto. Allora, è molto politicamente scorretto perché, non perché si tratta sempre del post di quella ragazza che è rimasta folgorata dallo spaccone del locale che si stava prendendo a pugni con il bodyguard eccetera eccetera. Allora, ovviamente qua nessuno sta pubblicizzando gli spacconi che vanno in giro a fare a pugni, ovviamente. Quello che io avevo detto era una cosa un po' diversa, ovvero che perché c'è stata tutta la polemica? Semplicemente perché il post è politicamente scorretto, in quanto adesso qualsiasi cosa che sia un po' più, diciamo, mascolina, coraggiosa, senza arrivare per forza a fare a pugni, chiaramente. Però adesso, se ci fate caso, qualsiasi cosa che sia un pochino più virile, mascolina, come vogliamo dire, viene considerata tossica. Allora, qui cosa è successo? Che questa ragazza ha semplicemente detto un qualcosa che, diciamo, con varie sfumature pensiamo tutte. In che senso? Allora, lei è stata colpita dallo spaccone, le piace lo spaccone, va bene. Però, senza arrivare per forza allo spaccone, quello che io volevo mettere in luce è che, diciamo, adesso ci stanno bombardando con questa storia dell'uomo che piange davanti ai film con i fiorellini, ok? Perché, secondo loro, secondo la propaganda, ovviamente, questo è il tipo di uomo che deve piacere a noi strong women che andiamo con la spada in mano, che siamo le guerriere della luce, diciamo così. Però, poi, all'atto pratico, se voi vedete, in realtà anche le femministe guerriere della luce che si scelgono i omini, zerbini e impauriti, in realtà finiscono con lo stufarsi molto presto di questo tipo di uomo, di omino, e vanno dicendo in giro che non c'è più l'uomo di una volta, ok? Quindi è questo che deve colpire. Questa ragazza del post ha semplicemente detto qualcosa che, in realtà, ripeto, con varie sfumature pensiamo tutte. Adesso, qual è il punto? Io volevo aprire anche un'altra parentesi. Fermo restando che nessuno sta dicendo, allora, io non ho mai detto che apprezzo chi va in giro a picchiare la gente, assolutamente no. Però io vorrei ricordare sempre a queste persone politicamente corrette che ci sono delle situazioni in cui, purtroppo, serve anche sapersi difendere con la forza. Perché, cazzarola, se io sto, se questa qua sta nella strada buca, perché il fidanzato di questo, da quello che ho capito, non so se n'è andato, non ha affrontato, tra virgolette, questi spacconi qui. Allora, leviamo un attimo questa situazione, andiamo in una situazione, diciamo, di pericolo, ok? Lei si trova con questo fidanzato per strada e c'è qualche malintenzionato che, per esempio, li vuole aggredire, li vuole derubare, eccetera. Allora, in quel caso, signori cari, anche sapersi difendere con la forza, purtroppo serve, mi dispiace, che non mi dispiace, ma non ci si può difendere con i fiorellini, perché in questo caso qui, in questi casi qui, purtroppo, c'è bisogno anche di difendersi con la forza e sapere che tu stai camminando con questo qui che si va a nascondere sotto la macchina. Non è che proprio, diciamo, come dire, in realtà Cosa non piace a nessuno, anche se non si può dire, perché bisogna dire che lui è gentile, tanto gentile, tanto onesto, ma in realtà, purtroppo, in queste situazioni serve anche questo, mi dispiace derudervi, ma parliamo sempre di difesa, ovviamente, quindi sono un attimo uscita al di fuori di questo contesto del post. Perché poi molti hanno detto, sì, lui ha fatto bene, perché comunque non si è attirato la questione, ok, perché questi qui facevano i buffoni, non so che, ok, mi può anche stare bene questa cosa, però, purtroppo, se questo qui, diciamo, è uno timoroso, ok, che quindi tu, se cammini per strada e il malvivente ti vuole, come dire, ti vuole aggredire, questo praticamente se ne scappa e è a paura, diciamoci la verità, questa cosa non piace a nessuna, questa cosa non piace a nessuna, ok, è lo stesso discorso che facciamo della legittima difesa con le armi, no? Allora, quando io parlo di legittima difesa con le armi, non sto dicendo che io voglio prendermi il fucile per andare a ammazzare la gente in giro, nessuno ha detto mai questa cosa, però io dico un'altra cosa, se io sto in casa, magari da sola con dei bambini, e alle tre di notte sento che qualcuno mi entra in casa, ok, io voglio potermi difendere, ma non perché io sia una criminale che voglio ammazzare la gente, io mi voglio difendere perché evidentemente qualcuno mi è entrato in casa, e lo stesso discorso lo sto facendo per il malintenzionato che posso incrociare per strada, quindi se io avvicino un uomo che magari si sa anche difendere, scusatemi, ma mi fa piacere, abbiate pazienza, mi fa piacere, e lo so, cioè, voglio dire, in queste situazioni non si vuole trovare nessuno, però purtroppo capita, no? Purtroppo capita, no? e mi dispiace dire anche quest'altra cosa, ma poiché noi donne generalmente siamo un po' meno forzute, diciamo così, abbiamo un po' meno forza, siamo più basse, siamo più, abbiamo comunque una, come dire, dal punto di vista proprio muscolare, chiaramente siamo un pochino diverse, scusate tanto se questa cosa pure non si può dire, allora il punto è questo qui, allora adesso tutte queste qua si sono indignate, tranne qualcuna che ancora magari se la sente di dire le cose come stanno, ma queste qua si sono indignate, perché dobbiamo dire tutti quanti che ci piace l'uomo con i fiorellini, che non alzerebbe un dito neanche con il criminale, ma questa cosa non è vera, questa cosa non è vera, poi sono le stesse che vanno dicendo non c'è più l'uomo di una volta, sono sicura, sono sicura di questa cosa, allora senza arrivare al criminale, senza arrivare al criminale, perché subito allora hanno tirato fuori, come si chiamano là, con i due fratelli, quelli che stanno adesso penso in carcere, quelli di Roma là, che ammazzarono il ragazzo là di colore, vabbè, ma nessuno sta pubblicizzando quei due là, che sono criminali spacconi, assolutamente, qua si sta parlando, però la ragazza pure, da quello che ho capito, parlava di un, diciamo, difendersi da certi bulletti che avevano cominciato a dare fastidio, la situazione è un po' diversa, è un po' diversa, quindi diciamoci la verità, forse in quel caso magari lui ha detto ok, ha preferito togliere la discussione, come dire, ha preferito levare carne che stava a cuocere, diciamo così, e finirla lì, ok, che mi può anche andare bene, per carità, però secondo me il noccio della questione non è tanto questo adesso, il noccio della questione è capire che questa ragazza non ha apprezzato, però, come dire, forse ha intuito che c'era, che ci fosse della paura, come se lei avesse percepito la mancanza di coraggio di questo qui, ecco, secondo me questo è stato il punto, lei ha percepito la mancanza di coraggio, ha percepito che invece quell'altro lì ha affrontato il bodyguard, eccetera, eccetera, come se fosse stato una specie di eroe, non lo so, cioè come è stata una percezione, diciamo così, è stata la percezione, è la percezione quale è stata, che magari quell'altro lì in una situazione di pericolo l'avrebbe difesa, che quell'altro lì è, diciamo, è una persona coraggiosa, non so se è un po' la sindrome dell'eroe, no? Esiste questa cosa qui, per cui è un qualcosa che anche, come dire, che spesso gli uomini, a cui spesso gli uomini sono soggetti, no? Quando riescono, non so, a salvare una situazione, a, come dire, a salvare una persona, non lo so, queste cose qui, lei secondo me ha percepito che questo coraggio ce l'ha avuto quell'altro lì, che poi è spaccone, tutto quello che vogliamo, questo è fuori di dubbio, però lei ha percepito, secondo me, il coraggio in quell'altro lì, che quindi è stato impavido, mentre il fidanzato le ha dato un'idea di codardo, di codardia, e secondo me questo è successo, perché non si deve ammettere, non si deve più ammettere, non si deve dire, non si può più dire che praticamente a noi questa cosa dell'uomo coraggioso ci piace, va bene? Scusate, ci piace, e piace anche a loro, perché loro poi sono le prime a dire, non ciò più lo vuoi dire una volta, questi sono tutti i mollicci, questi sono tutti i miei miei miei, sono loro le prime a dire questa cosa, però non si può, no, però, però, però dobbiamo prenderci quello lì, che spara i fiorellini e che si nasconde sotto il letto perché ha paura, questa è la verità, ok? Quindi ancora una volta è stata praticamente una, come dire, una polemica che si è scatenata dal politicamente corretto, secondo me è sempre questo il discorso. Adesso si può anche non arrivare, ripeto, ripeto, questo magari era uno spaccone, era, non lo so che cavolo era questo qua, però anche senza arrivare a questi estremi, percepire comunque il coraggio, percepire che questa persona sappia prendere in mano una situazione e risolverla, diciamo così, anche, ripeto, anche in situazioni di pericolo, perché ci sono anche situazioni di pericolo che tu non puoi risolvere con il sorrisino e il bacino, voglio dire, purtroppo succede anche questo, alla fine purtroppo secondo me è questo che è successo, è questo, è stata una percezione della ragazza che appunto ha percepito, ha intuito che questo qui era coraggioso, era come lo vogliamo chiamare, mentre il fidanzato praticamente si è resvignata, ok? Mettiamola così. Quindi in una situazione di pericolo, se adesso uscirono dalla discoteca, questo qua incontrava un criminale, magari, lei sicuramente, lei adesso ha la certezza che questo qua si va a nascondere. Poi, sì, possiamo anche dire, ok, ma in certe situazioni è meglio non reagire, tutto quello che volete, però il punto è stato la percezione che lei ha avuto di questo ragazzo, non è stato nient'altro, è stato questo. Va bene, va bene, sempre, siamo sempre nel politicamente corretto, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare.